E' scritto nero su bianco sull'albo pretorio del comune di Olbia. Domani il Consiglio Comunale è chiamato ad ottorizzare l'acquisto del vecchio e abbandonato cinema astra. L'obiettivo che l'aula si porrà è la riqualificazione del fabbricato, un tempo uno dei simboli culturali della città galurese, da anni però manifesto di degrado. L'acquisto del vecchio cinema di piazza mercato rientra nell'obiettivo strategico 2, Olbia città d'arte, storia e cultura. L'intesa con i proprietari è stata raggiunta nella serata di martedì, rendendo necessaria così un'integrazione ai punti all'ordine del giorno della seduta consigliare di domani. Nella riunione dell'aula, che precede la sospensione dei lavori per le festività natalizie, Olbia avrà l'opportunità di dare seguito al sogno perseguito per anni, dotare il centro di un teatro pubblico che nello spirito conserverà la storia del cinema astra, costruito negli anni 50, palcoscenico di manifestazioni anche di carattere nazionale, chiuso poi negli anni 80 e ci siamo fatta per una parentesi negli anni 2000, quando diversi incendi ne decretarono un nuovo abbandono.